L'associazione sportiva Karate Club Agropoli ha partecipato il 13 e 14 novembre al recupero dei campionati italiani del 2020 rinviati a causa del covid e tenutisi a Rimini. Già nel maggio prossimo si dovrebbe svolgere regolarmente il campionato 2022 infatti. Il team guidato dal maestro federale Gerardo De Marco ha visto la partecipazione di nove atleti agropolesi che hanno conseguito una buona affermazione sia dei singoli che di squadra con cinque podi conquistati. Tra i partecipanti anche un atleta agropolese è diventato arbitro federale che ha arbitrato vari incontri nel corso della due giorni riminese. Il Karate anche nel nostro territorio si va sempre più caratterizzando come una disciplina in grado di accompagnare la crescita umana e sportiva dei giovani, un modo per educarsi alla disciplina e al rispetto dell'avversario, alla conoscenza di sé e al controllo dei propri impulsi e delle proprie emozioni. Un cammino educativo oltre che sportivo che si conferma una bella realtà locale di rilievo ormai nazionale.